buongiorno ragazzi è molto tardi e io sono sveglia e niente praticamente mi è capitato di leggere un commento allucinante no dove mi diceva che io faccio disinformazione e quant'altro disinformazione di cosa perché ho detto che noi a 18 anni ci danno carte di credito di diverse banche solo per legarci a loro e avere già un debito pubblico che poi per pagare se non ci sono dietro i genitori che ti pagano ai debiti su debiti farai sempre fatica a ripagare i debiti che hai che le banche ci indottrinano a chiedere prestiti un momento i prestiti chiesti in modo giusto quelli sono d'accordo per generare altro denaro ma non di certo i prestiti per andare in vacanza perché l'amico ha le 6 shell allora anch'io ci voglio andare però non ho pensato in tutto l'anno lavorando ovviamente di mettere via qualche euro da potermi permettere il viaggio allora no vado a farmi il debito per andare in vacanza e questo non è avere le manette ai polsi ma questo è solo un esempio è io nel mio discorso di prima che sono stata criticata da una che mi ha anche dato della pagliaccia senza conoscermi poi e non potrà neanche vedere sto video se non entra con un nick falso perché oramai va di moda farsi nick falsi no si permette di venire a sindacare qua e allora io gentilmente gli chiedo argomenta spiegami perché io sto facendo male informazione visto che tu ne sai di più e mi dà della pagliaccia la signora e che non perde tempo con una come me una come me cosa che non mi conosci chissà le tue amiche alto locate saranno no sarai una perbenista no e comunque io ho sempre detto sono pronta al confronto non sarò pratica di parlare davanti a una telecamera però pian piano sto imparando però della vita con i miei 48 anni e con la vita che ho vissuto ne ho di cose ne avrei di cose da raccontare e quello che io vi racconto anche sulla legge dell'attrazione non sono cose così sono cose anche scientificamente provate quando vi faccio i nomi di premi nobel no tipo mark blank o altra persone non li ho mai fatti con arroganza è semplicemente perché io mi sto riscoprendo che mi piace la storia mi piace studiare e sì da autodidatta perché non posso andare a scuola a 50 anni però posso studiare a prendere dei libri documentarmi poi adesso anche con il telefonino fai un click eh ma non solo quello a me piace avere il cartaceo in mano quindi a quelli sei persone che hanno messo il pollice in su eh avete la possibilità di poter ribattere è un attimo aprire un video e dirmi sei una una cogliona per questo spiegatemi cos'ho detto di male nel dire che praticamente eh già a 18 anni le banche tendono a metterci come un capio al collo e fare in modo che noi diventiamo debitori di qualcuno e con questo dover lavorare tutta la vita per pagare i debiti invece magari di chiedere dei prestiti per non so per aprire un'attività un'azienda o quando ho parlato del come si dice del delle scuole no ragazzi ci sono gente laureata con doppie e triple lauree che lavorano in fabbrica niente di male eh per l'amor di dio l'importante è che sia un lavoro pulito solo per dire che la meritocrazia non esiste più le persone non valgono più perché ora come ora tutti quasi tutti andiamo a lavorare ci pagano poco e con quel poco che noi che ci pagano dobbiamo pagarci la casa le bollette e dopo siamo costretti a fare dei debiti io era questo che intendevo quindi qui vige la mia politica questa è casa mia questo canale ok io non dico che dovete essere d'accordo con me assolutamente però argomentate ditemi perché sto sbagliando quindi da adesso in avanti se offendete senza argomentare dopo che io ancora dopo la vostra come dire il vostro scrivere non parlare perché non stiamo parlando tu per tu in brutta maniera io ancora vi invito di argomentare il perché e mi offendete primo i messaggi verranno cancellato e secondo fuori via fuori dalle scatole io qua voglio che sia un posto di tranquillità e non di cattiveria e con questo è quanto ok rispetto educazione argomentiamo mi dite che ho sbagliato io sono una persona pronta a cambiare idea se mi fate capire che io sto sbagliando però nessuno si potrà più permettere di venire in questo canale a darmi della cogliona o della pagliaccia perché quella è la porta ragazzi non ce l'ho con voi è solo la nuova impostazione del mio canale da adesso in avanti quindi sto cominciando a prendere un po' più di esperienza perché io ho tanto da dare nel mio cuore però non pensate che potete prendermi in giro perché questo no perché tu se mi dici che io sono una stupida posso accettarlo ma mi spieghi anche il perché perché io sono arrogante e stupida mamma mia vabbè ragazzi sono già nove minuti che parlo io vi auguro una buona serata e ciao a tutti